Ma non è che sono soddisfatto, chiaramente per essere soddisfatto dobbiamo essere primi, visto, ecco, si è parlato prima di investimenti e non di investimenti. Noi stiamo vedendo quest'anno un campionato molto particolare, no? Chi ha speso di più è indietro, chi ha speso di meno è avanti, addirittura vince il campionato. Come dicevamo prima, non è una solita frase fatta che si dice che il calcio non è una scienza esatta. Purtroppo c'è chi ha speso, il 30% è Benzeri B e chi ha fatto tanti sforzi come noi. No, non ci siamo andati diretti, non è detto, non è finita, ecco, io mi allaccio alle cose perché fino all'ultimo siamo sempre fidociosi e sono sicuro che questa squadra ha delle qualità importanti che forse verranno fuori anche nei playoff sicuramente. Quindi chiaramente non è che uno è soddisfatto in pieno per quello che è, però ricordiamoci anche come siamo partiti. Siamo partiti con due sconfitte consecutive, poi abbiamo rimutulato la parte tecnica, abbiamo cambiato l'allenatore e chiaramente quello sicuramente pure pesa perché sono due sconfitte una presa all'altra. Abbiamo rimutulato la squadra, abbiamo cambiato l'allenatore e rivisto, voi sapete bene, che quando un allenatore si costruisce una squadra, poi si cambia l'allenatore e viene un altro allenatore, magari alcuni elementi non sono di gradimento per il tipo di gioco, per il caratteristico, perché si sia. E quindi abbiamo dovuto in qualche modo correggere a mercato chiuso, perché abbiamo dovuto correggere un po' le cose a gennaio, per come si vuole. Però siamo andati avanti con la squadra che è stata costruita da un altro allenatore. Chiaramente non è una giustifica assolutamente perché l'obiettivo primario nostro iniziale era quello di fare un campionato e di vincerlo. Tanto è vero che lo dicono i curriculum, come dice Tocotino, lo dicono i contratti, lo dice la spesa totale che noi abbiamo e che stiamo facendo. Per quello io dico fino alla fine siamo fiduciosi.